Segretario De Santis, l'Abruzzo chiama l'Italia per questo disegno di legge molto importante sulla commissione d'inchiesta? Noi abbiamo chiesto e ottenuto dai nostri parlamentari la richiesta della istituzione di questa commissione d'indagine perché riteniamo che sia essenziale fare chiarezza su tante cose, sia nella parte emergenziale, sia nella seconda fase, questa che stiamo vivendo della ricostruzione perché i 10 e oltre miliardi di spesi investiti nel territorio, nel cratere per prima l'emergenza e poi la ricostruzione, fino adesso hanno prodotto sì risultati importanti nella ricostruzione delle case e delle abitazioni ma molto poco nella ricostruzione del tessuto sociale ed economico, tant'è che la disoccupazione è a livelli altissimi e quello che succede in questi giorni, l'ultimo drammatico avvenimento, l'istucidio di un giovane perché ha perso il lavoro sta a dimostrare qual è la situazione particolare che va affrontata di petto, queste risorse noi vogliamo che si sappia con esattezza che i cittadini sappiano che fine fanno e noi riteniamo che in tutta questa filiera, da quando si decide il provvedimento fino a quando si completano le opere sia tutto sotto la lente di ingrandimento, il cittadino deve sapere, lo dobbiamo ai tanti cittadini aquilani e abruzzesi che aspettano ormai da anni di vedere ricostruita la città ma anche il comprensorio di tutti i comuni sul piano fisico ma anche sul piano sociale e economico che queste risorse producano economia, occupazione perché senza il lavoro per i giovani che stanno andando via noi avremmo fallito come classe dirigente la nostra missione ecco perché fare chiarezza in una commissione di indagini è essenziale per ridare tranquillità a tutti i cittadini